Altro giro, altra corsa. Si torna nuovamente in campo nel girone C di Serie C. I fari della quattordicesima giornata saranno tutti puntati su Foggia, Audace e Cerignola. I rossonieri arrivano all'incrocio dello Zaccheria con l'umore alle stelle e con un'imbattibilità che dura ormai da otto turni tra campionato e Coppa. La Curagallo dunque ha letteralmente rovesciato la situazione. Dall'altra parte della barricata, campionato pienamente in linea con le proprie ambizioni per l'Audace e Cerignola che continua a galeggiare in zona playoff e fiuta il sorpasso. Gli uomini di pazienza infatti vedono i rossonieri avanti appena di una lunghezza, una sfida che in ogni caso darà motivazioni extra alla squadra ofantina che da realtà di provincia sogna il colpaccio. L'atteso derby di Capitanata però si disputerà a porte chiuse, un iconeo di una gara che avrebbe regalato spettacolo sugli spalti. Chinvic spera di invertire la rotta e la Fidelis Andrea. La situazione in classifica preoccupa e non poco i federiciani che si ritrovano sul fondo della classifica a 48 punti. Domani al Degli Ulivi c'è il Monte Russitusha, reduce dai passi falsi con Messina e Catanzaro. La Fidelis intanto ha confermato Dio Dudu in panchina, un attestato di stima nei confronti del tecnico che in queste due giornate al netto di un solo punto raccolto è riuscito a dare una scossa all'ambiente. A chiudere il quadro della quattordicesima giornata per le compagini pugliesi Giuliano Monopoli e l'altro derby di giornata Virtus Francavilla Taranto.